Allora ragazzi, qui l'idea giochi con Party of Sin, quindi completamente 87%, mio Dio quanto, paradiso, allora, guerra totale, come disse, buon Benson, e andiamo avanti. Non mi ricordo esattamente dove ci siamo fermati, perché poi non l'ho più preso il gioco, quindi, cioè, non l'ho più continuato qui, si è bloccato, vero? Dai, ti do la mia forza mentale, dai, Party, funziona! Non bloccarti, puoi farci, lo so che puoi farci, a grande, eh, ho funzionato, la guerra più totale, citazione Richard Banks, evocati, i demoni hanno infine la possibilità di sconvolgere il paradiso, non ne ho idea se l'ho già letta sta cosa, sostituendo il caos all'ordine, wow, non ho, wow, allora, sinceramente ragazzi, non lo so se l'ho già fatto sto pezzo, non ne ho idea, al massimo lo rifacciamo insieme, Vi giuro, non mi ricordo dove ho stoppato il vecchio video, perdonatemi, ma è un casino che non gioco a Party of Sin, allora, qui abbiamo anche i nostri compagni, ma non fanno un cazzo, come potete vedere, l'intelligenza artificiale dei compagni è qualcosa che rasenta la merda, secca, fra l'altro, vieni qua, dai, fa un culo, fortiti amico, me ne sbatto. Ehm, questi affari qua quindi spawnano, eh, nostri compagni, qualcosa abbastanza comoda, anche, cioè, sarebbe comoda se fosse utile, e wow, 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 che cosa vuol che, andiamo di, me, va, da, da, ok, dai smettila, no, no, levati dal cazzo, vabbè, mettiamolo qua, poi. La guerra Più totale La guerra Se non sapete che canzone sto cantando È normale Nel senso che non è una canzone vera È tratta da un video Quindi tranquilli Allora là ci arrivo con lui Suppongo, sì Allora ricordavo bene Guardate che bordello Che casino Vai là Ok Sto saltando tutti questi combattimenti Perché come ho scoperto la scorsa volta Appunto mentre stavo facendo questo livello Poi C'è ecco Mi spiego meglio Dico che non so se l'ho fatto Perché L'ho fatto questo pezzo Fino ad arrivare in fondo Dove c'è un boss E poi mi sono accorto che Dictory non aveva più registrato niente Quindi ho tipo spaccato Controller, sedie, tv E ho chiuso tutto Cancellato il video che avevo fatto Quindi ora Non so Se è rimasto qualcosa Di questo livello Negli altri video O se effettivamente Ho cancellato tutto Quindi appunto Devo rifarlo Merda Mi stanno ammazzando Veramente Se è davvero Arpionato il nemico Veramente Cioè Io Rimango costernato Non Non costernato Basito Costernato Tipo non c'entra un cazzo Va bene Ho spawnato un po' Di miei compagni Anche se non serviranno a niente Qua Serviamoci di lei Ah bello Perché è anche imprendibile No Fa un culo Devo anche per forza passare Aspettate No in verità no Mi basta fare così Wow Preso in pieno Vieni qua Ok Così te la smette di fare il figo almeno Poi Speriamo che Finisca presto Sto a fare Ok Devo beccarlo Bene Devo beccarlo Qua in teoria Posso usare anche lui Bella Molto più sicuro Così Qua cosa è accaduto Ah ho aperto i cancelli Così poi posso passare Ah una cosa carina È che vi potete mangiare Anche i vostri compagni Molto comoda sta cosa Se volete riprendervi un po' di salute Anzi no Forse neanche la Ridando la salute Mio dio Ok Da poi in poi è nuovo Però per me Suppongo che devo scappare Basta Suppongo Suppongo bene Mio dio Ma davvero È davvero Cioè siamo I sette peccati capitali Stiamo fuggendo Come delle fichette impaurite Davanti a un angelo Con una gatling Sì perché Il ragionamento Fila in effetti Quindi in effetti Direi che è giusto così Stalin Senza bloccarti Grazie Merda Merda Vai Oh 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 Più foga Più foga Mettici Più energia Corri Ti prego Corri Ok Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Levati Levati Ho il terrore delle scale Wow 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 No 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 Meno male da qua C'è vuol terrore di Dover rifare tutto Wow Come l'ho saltato Come neanche Mario saprebbe fare Wow 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 Ah 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 Ok Wow Via 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 Corri No E adesso Ah Ha smesso Ah Mio Dio Che ansia Ok Vieni qua a te Ok Qui invece cosa accade Siamo chissi Che Ok Wow Ah No Scusate Ok Suppongo che devo Accedere Di accendermi per lo stiafai Ah ma si spengono subito Eh Ah No Ok Ah Merda Ah Ah Vediamo se faccio così Ah Così Vediamo eh Posso Fare così No Ho fatto una minchiata Però aspettate Forse Se lo tolgo Salgo insieme Oh Mi basta fare la stessa cosa di qua Mio Dio Sono un fottuto genio Sono un fottutissimo genio Guarda qua Ho sbagliato fra l'altro Sono un genio incompreso No Era giusto No in verità sto sbagliando Vediamo Sto sbagliando Se Ah No Aspettate Che cazzo sto facendo Devo far scendere questo Ok Adesso giusto No Sbagliatissimo Devo fare così Togliamo posto a fare Io devo adesso Farlo Farlo Come cazzo ho fatto là Incredibile sta cosa Wow Aspetta Eh no Merda Devo per forza Come ho fatto prima Incredibile Così ho fatto Ah sì Così ho fatto Così e poi così Ok Dovrei Avercela fatta Vediamo No Merda Ok Ce l'ho fatta Tranquilli Niente di più semplice Wow Quanto siamo Perfetto Guarda qua che roba Livello completato Ah 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 Scusate Quello non ci stava Incontro finale Posso comprarmi qualcosa No Cazzo Vabbè Incontro finale Oh mio dio ragazzi Wow Wow Già così Buttati così All'acqua di rosa All'acqua di cane Al pene di cammello Scusate Così 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 Arriviamo qua Sbocchiamo un segreto Il segretissimo Qua c'è il punto debole Immagino Non c'è niente Ok perfetto Però c'è questo Cosa accade qua sopra Wow Wow Calmino Wow Piano Cosa sta facendo qua È bianco Non posso farci niente Finché è bianco Suppongo Cosa devo fare Con lo Aia Cosa devo fare Con l'uomo Mi scusi L'uomo Vabbè Eh no Così Deflette E finché Deflette Così Deflette Questo cos'è Wow Wow Che stupido Si fa colpire da solo Ah ecco Sei debole contro il potere della figa No Quanto pare no Ah smetti di Chiamarmi peccatore Basta colpirmi Allora Che cazzo faccio Non Mi sta sfuggendo qualcosa Allora Il massimo che posso fargli fare è Farlo venire qua sopra Vieni qua sopra Wow Wow Aia No Vediamo se Riesco a farlo Rimanere che ne so Qua Cazzo ne so ragazzi Mi sta massacrando Vuoi fare il tuo attacco Oh Eh no Abbiamo Ok Almeno una cosa Siete stata scoperta Scusate Abbiamo scoperto Che non gli faccio niente Con i suoi raggi bianchi Lì Non posso fare un cazzo Stai a fare qua Mi ammazzano o no Devo ancora scoprire sta cosa Non ho ben capito Abbiate pazienza Stai qui a fare lì Mi ammazzano o no Se i raggi Vediamo Sì Mi ammazzano E bene sì Lo scudo di Michele Immune a tutto Forkhafi ha i suoi stessi attacchi Cosa Ah Ma dai Ma è un'ora Che lo sto colpendo Con i suoi stessi attacchi Scusa eh Intendi Vediamo se posso mangiare I suoi affari I suoi attacchi bianchi Attaccami Aia No Non questi attacchi Sparami No Fanculo Come cazzo faccio A farlo colpire Da un suo Da un suo stesso Merda Attaccami Spara 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 Fanculo Non lo posso manco mangiare Allora come cazzo faccio Come faccio Dai Impossibile Vedemichia Sbattano ovunque A meno che non li rallento No Rimbalza anche quello Eh Fanculo Allora Superbia Puoi spingere i proiettili I suoi Ah Grazie Ok vieni qui Attacca 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 Oh Ah fa culo Ha capito che ho capito Bastardo Spara Spara Oh Oh Bastardo ancora Smettila di Le No Lei non puoi spararmi Levati C'hai dei capelli assuri Stalato Michele Oh Vabbè Adesso dobbiamo fare un duello Così Sì ma Non sto facendo niente Quello è bello Wow Wow Mi sta sparando Questo è ma Impossibile Ah Sto boss guardi Una difficoltà estrema Sì d'accordo che è il finale Ma ditto Ma è il finale Ma sei scarso Minchia ragazzi La smetti di spararmi E io di andare Contro i proiettili Wow Chi è quello lì Uh quello lì è carne Da macello Vieni qua Ma no ma è lui Ma è Michele Ma cazzo Devo andare a mangiare No No Wow Wow Ho schifato i colpi Incredibile Eh Di che cazzo è che Eccoti Oh E smettila di sparare Muomiti Sparisci Ok Vieni qua No Ah ma il suo Il suo scudo È comunque sparito E adesso come la mettiamo E adesso come la mettiamo Brutto figlio di puttana Dove Come la mettiamo Come la mettiamo Come la mettiamo Affanculo Ok No 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 Ah ah Wow Affanculo a me stesso Vieni qua Oh Dai Dai Ah sì È una partita a tennis Dai Sono bravo a tennis Oh Sono più bravo io però Perché non mi ha colpito Mi sono colpito Mi stare spingendo gli attacchi Veramente Perché Perché Da quando ho imparato A spingere questi attacchi Da quando E va bene Incomincio subito Con l'attacco Ben imparabile Non mi è andato Del tasto di attacco Dai su Provaci Riprovaci Prova Riprova Riprova Dai Vai Ah 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 Oh Vieni qua Vieni qua Vieni qua Muore E sono morto io in pratica Ma porca troia Quanto è difficile Levati Levati Ma guarda 12 mi stanno sparando Ma porca puttana Che difficile sto boss Faccio con questo video Come si è potuto intuire Più lungo Per poter finire il boss In questo video E finire party of scene In questa parte Vieni qua No Oddio Cosa ho fatto Non volevo manco farlo Eh maledetto Bastardo Mi respinge E finire Col buco del culo E attacco Quello lì Qualunque cosa E spinge Fortissimo Questo qui Ok Un po' di vita Merda Ma dai È difficilissimo Non posso non finire party of scene Perché il boss è troppo difficile È imbarazzante Perché c'è di peggio Cioè Wow Vaffanculo Dove cazzo sei? Qui te Per esempio Smigliai spararmi E fatti mangiare Facevo così Abbiamo imparato Che ci dobbiamo sempre togliere Quelli Quelli piccoli Non ho Non lo posso più addormentare A quanto pare Prima è stato un bug Esatto Perché ora lo Perché Uh Ora è stato colpito A quanto pare Va a caso allora Peccato che sono Anch'io lento Quindi non cambia un cazzo Ok Ok Ah merda La sua bolla di merda Oh Ma perché Non attacca Ah Basta Basta Spara Spara Oh Oh Ma dai Alcune cose Mi stanno stupendo In maniera assurda Devo Assolutamente Andare a prendere Quella mela Ok Spara 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 se il coraggio Guarda Sto baciando per terra Per il tuo onore Dai spara Spara Ma tu perché stai nero Perché stai immobile L'intelligenza artificiale È qualcosa di tremendo Guardalo Ma davvero Ma davvero Dai spara un po' Bravo E non mi attacca Il fottuto pezzo Di merda Con la corona E il mantello Viona Spara Oh 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 C'avevo paura Che Dovesse andare avanti Ancora per molto Quel gioco di suoni Wow Stavolta ce l'ho Nel culo Eh infatti Stagente ovunque Wow Wow Forse ce l'ho fatta Merda Merda Oddio Ok Lui cosa c'è Di nuovo la bolla No Vediamo se posso Colpirlo No 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 Oh Alla terza Perché mi sono colpito anch'io Com'è possibile Vabbè abbiamo scoperto Che alla terza Posso colpirlo Vieni qua Vieni Mi ha ucciso Io Io questa Non l'ho Proprio per niente Capita Mi ha Ucciso Saltandomi in testa Io No Io 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 Dai Porca puttana 40 minuti di video Che non potrò mai Montare Per fare sto cazzo di boss Strabaggato Cioè Non mi ha neanche più attaccato No Sono morto Allora Stiamo facendo Sto cazzo di boss E non riusciamo a sconfiggerlo Perché è impossibile Allora Vediamo se stavolta Ce la facciamo Ha sparato Ho respinto Ho respinto Ho respinto Vediamo se Vediamo se deve andare avanti Ancora per tanto No Ok Vediamo se Riusciamo ad addormentarlo No No E mi sono Sono morto In pratica Mi sono morto Ho detto Che bello Il mio italiano Questo qua è anche rosso Si va bene Non volevo te Ma volevo lui Sali Sali Bravissimo Adesso Dobbiamo andare a raccoglierci Un po' di mele 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 Oh Anche te andrei benissimo Ancora meglio Ora lui è lì Siamo sicuri Ancora te Sei in giro Però Forca merda Ma che se ne frega Di bloccare Sto qua Veni Eh va bene Cioè Ha preso me Cioè Era qualcosa di assurdo Vabbè Comunque No 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 Quando 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 Sparisce Sto Sto effetto Stavo per dire Vai attacca Di più Di ancora Di più Ok No No Merda Sali 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 Scappa 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 Se non è finita Ok Almeno una mela L'abbiamo presa No 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 Uh Ok E levati Dai coglioni Per una volta Eh va va Fancuro Vai Allora Ora Mi Mi Lo sapevo Ogni volta che sono a un metro In modo che non posso pararmi Spara Corre Correttissimo Da parte sua Ma dai Ma per Ditto Calm E' solo il boss più difficile Che potesse mai essere creato Calmati Ma vaffanculo Ma dai Ma mi sta sparando in qualunque istante Vediamo se mi è mentre No Non è il tuo scudo E i tuoi cazzo di colpi Ti fanno male Dai 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 Oh T'ho colpito Comunque E vabbè E anche lui ovviamente ha colpito me Perché è immortale E imbattibile Va bene Uh Mela 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 Vieni qua Vieni qua Dove va Dove va Vieni qua Ancora 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 Perché per una volta non ti blocchi in un bug Vai via Eh vaffanculo Quando non attacca come l'odio Riprova 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 E sarei più fortunato E ritenta Al prossimo gi Ma davvero Ma davvero Ora fa st'affare Dai che c'è stavolta Se non ce la faccio stavolta Minchia Ah Ancora Ah Oh Dai No Ah merda Ora c'è anche i suoi C'è anche i suoi scagnozzi in giro Vieni qua Questo qua cosa fa qua bloccato Cosa fai Levati dalle palle Ok Dov'è l'altro Dov'è il boss Degli Di scagnozzi Di livello Di qualunque cosa Dai 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 uomo Dalla capigliatura epica Dai Dai Eh vaffanbella Ancora un po' Da Da Perché non attacchi Sali 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 Brava Ok Ok ora No Spara Dai che forse È la volta buona Che arriviamo All'ultima serie di colpi Dai che forse Stavolta Ok No merda 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 Lei No Sì Ok Ora dobbiamo andare a Mangiare quegli altri Questo qua cosa c'ha Che cazzo c'ha Non capisco Va bene Fai Non va più R1 Ragazzi Mi spiace Oh Finalmente Grazie Ero morto Non capisco Cosa debba fare Con quell'altro Però Vaffanculo Cosa devo fare Con l'altro Che cazzo Di potere Ci vuole Boh Vediamolo meglio Non capisco Cos'è Questo Vola Ah sì No 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 Vieni qua Fatti Merda Come li odi Quando fanno così No Vieni Perché non scendi C'hai paura Ok Adesso Ci manchi solo tu Sai vero Come hai fatto A respirare Vabbè Come hai fatto A Respellerlo Che non vuol dire niente Corri 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 Ti prego Ancora un po' Di metri Ok Stavolta devi essere colpito Me l'hai già parlato troppe volte No 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 E anche stavolta Ancora 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 una volta Oh Vai Dai che la volta è buona Ancora un po' Ancora un po' Sì Vai Spingi Sta diventando un porno Sta cosa Spingi Ancora Poco poco Vai Uccidilo Uccidilo Due colpi Due colpi No No Non adesso Non ci posso credere Ma no Ma questa si chiama scorrettezza Ma guardate Ma no Ma no Ma no Non me ne capacito Spara Spara Sono tutto tuo Spara Dai prova 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 Spara Spara Uah 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 Dove deve essere finita sta cosa No Stavolta Penso subito a te Non vado a prendere i tuoi scagnozzi Cosa accade lì? Sì Via di lì Via via Fuggire Fuggire come lippe A satanate Vai 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 Basta Dai che è finito No Cosa sto facendo Sono lì Sì Va bene Fatti sparare Basta che No Devo scendere Ok Le Le Vatti Le Le Infatti ti prego No Ho fatto cadere Maledetto Allora Vai Via di lì No Di qua No Di qua Vai 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 Via 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 Il boss più difficile Che la storia ricordi Demon's Souls e Dark Souls In confronto non sono nulla Perdonali Perché non sanno quello che fanno Invece Sika lo so quello che faccio Ho finito un gioco Ho battuto un boss impossibile Qualcuno direbbe che l'equilibrio delle forze è stato spezzato Peccato e male di nuovo insieme Neanche l'ombra di Dio Vabbè capita Quattro mondi distrutti E tu sei più potente che mai Io il peccato Gola Quale depravazione ti attende È tipo un semi annuncio per Party of Sin 2 Livello completato E il gioco finì Oh Mio Dio Ora forse possiamo comprare questa roba Esatto Possiamo comprare questa roba Poi siamo immortali I nemici attaccano solo se attaccati E siamo più veloci Wow Ok Vediamo un po' se mi dice al 100% 95% Ci mancano alcune sfere Alcune Ci mancano le mele verdi Comunque È stato carino Ci siamo divertiti Voi Io ho sclerato come un pazzo Però il gioco in sé è stato molto molto simpatico Molto molto carina L'idea dei peccati Molto molto ben implementate Le abilità dei singoli peccati Con gli enigmi Sono rimasto piacevolmente colpito da ciò Sentite come parlo stasera E vabbè Ci siamo comunque fatti un bel gioco Nel senso che Tutto sommato sono Sono soddisfatto È durato anche abbastanza Fra l'altro Niente Ci vediamo quindi con il prossimo let's play Con il prossimo gioco Qua sul canale Grazie per avermi seguito Fino a questo punto Fino al finale Ci vediamo Bella ragazzi Quindi Mi piace il commento Niente Ciao Ciao Ciao